Un infopoint a servizio dell'autorità portuale e della città. Non è un caso infatti se l'inaugurazione della nuova sede si è svolta in concomitanza dei festeggiamenti per la presenza a Brindisi della Brigata San Marco. Un'occasione di festa che guarda al futuro, con un messaggio di unità che vede al centro il porto di Brindisi, tra turismo, impresa e marina militare. A rappresentare la Regione Puglia il consigliere Maurizio Bruno, mentre per il Comune di Brindisi l'assessore al turismo Emma Taveri. Questa è una piccola cosa, difficile da realizzare perché l'immobile è vincolato, c'è tutta la sede dell'autorità portuale di Brindisi, un immobile che è soggetto a vincolo monumentale, quindi realizzare anche questa cosa in questo contesto è stato difficile. Mare, porto, città di Brindisi, io credo che non si possano fare distinzioni. Io credo che tutte le amministrazioni, le istituzioni che a vario titolo sono rappresentate qui oggi, hanno il dovere e l'obbligo di lavorare insieme per realizzare qualcosa di importante per questa città. La cosa più bella qui è quella della dimostrazione della bellezza della nostra Puglia, ecco perché è anche indirizzato nelle politiche dello sviluppo del nostro territorio, la bellezza del turismo, la bellezza che vediamo del mare, insieme a soprattutto una capacità sinergica dei vari soggetti che sono impegnati adesso ad avere ruoli importanti nel governo del territorio a fare i sintesi. Sicuramente un doppio ruolo, si va ad aggiungere come tassello all'informazione della città, aggiungendosi appunto all'info point già presente in città, quindi può essere un punto a disposizione dei croceristi, dei diportisti, degli stessi cittadini, come ha sottolineato anche il presidente dell'autorità portuale, quindi è uno spazio, un punto che può essere sinergico, quindi di collaborazione e può rappresentare appunto una collaborazione anche tra i due enti.